ciao brewers allora mentre il mio birrificio è ancora in stand by e mentre mi assaggio una bella dunkelweizen gentilmente offerta da lorenzo che salutiamo birra che tra l'altro non è niente male anche se ha un paio di fettini una schiuma un po troppo esuberante ci ho messo mezz'ora per farla entrare nel bicchiere e un leggero retro gusto metallico un po che resta in bocca però a parte questo comunque non è una cattiva birra oggi non sono qui per parlare della birra volevo parlarvi invece un po della correzione del ph durante l'ammostamento non tanto spiegare perché va fatta la correzione perché è importante avere un certo ph queste cose qui cose di cui abbiamo già parlato ma giusto per darvi un paio di consigli il primo riguarda i tempi un po dell'ammostamento e della correzione del ph perché normalmente come come si fa bisogna fare il machine quindi mettiamo i nostri grani nell'acqua nel meshtun e bisogna aspettare un 10 minuti 15 minuti che il ph si stabilizzi poi lo misuriamo con lo strumento che preferiamo e se necessario lo correggiamo con acido lattico o quello che preferiamo utilizzare poi bisogna rimescolare aspettare ancora un pochino rimisurare vedere se il valore adesso è giusto oppure eventualmente correggerlo ancora eccetera tutta questa procedura capite che porta via un bel po di tempo e qual è il problema che con i malti che ci sono in commercio adesso che sono molto modificati quindi sono molto ricchi di enzimi c'è il rischio concreto che ora che siamo arrivati ad avere il ph giusto l'ammostamento sia praticamente finito e quindi non ha più molto senso neanche farlo e quindi il consiglio che che vi do è dopo qualche cotta più o meno lo sappiamo già qual è la quantità di acido lattico supponiamo da mettere io per esempio le cotte che faccio io con i volumi che faccio io una birra chiara so che bene o male una decina di ml ce li devo mettere per cui non dico 10 ml però magari 8 li metto già dall'inizio non aspetto dopo aver misurato e poi metterlo dopo li metto già nell'acqua ancora prima di mettere i grani in modo che parto già con un ph più o meno giusto già vicino poi magari lo misuro lo stesso faccio una correzione fine se c'è da mettere ancora quei due o tre ml però comunque già l'ammostamento parte più o meno con i valori giusti questo è il mio consiglio se poi volete anche avere una stima del ph che avrà il vostro mosto prima di correggerlo e anche magari una stima di quanto acido lattico dovrete mettere per fare la correzione lì ci possono venire in aiuto software per il computer software per home brewing per esempio se come me usate beer smith beer smith ha proprio una funzione all'interno che ci consente di vedere queste cose di fare queste stime ve la faccio vedere velocemente ecco qui abbiamo il nostro beer smith vedete che negli ingredienti oltre ai luppoli grani lieviti eccetera c'è anche le acque ci sono anche le acque water se noi entriamo nelle acque vedete che ci sono già i profili delle acque più più famose per fare la birra e ovviamente noi dovremo mettere il profilo aggiungere il profilo dell'acqua che stiamo usando noi quindi facciamo ad water gli diamo un nome mettiamo il ph della nostra acqua se vogliamo il prezzo così che servirà poi la stima del costo totale della cotta e dovremo mettere questi valori calcio magnesio sodio bicarbonati eccetera e dove ritroviamo questi valori beh se usiamo un acqua comprata in bottiglia un'acqua minerale li troviamo indicati in etichetta normalmente se usiamo acqua di rubinetto acqua di rete la troviamo li troviamo normalmente pubblicati sul sito web del gestore del nostro acquedotto io per esempio ho creato un acqua rubinetto piacenza 2017 e ho preso questi valori appunto dal sito di i reti iren che è il gestore dell'acqua da noi che vedete pubblica periodicamente sul sito web qui c'è i valori medi dell'acqua di rubinetto del primo semestre del 2017 e ci sono tutti i valori che ci servono e anche altri in più per esempio mi dice che il ph di origine è 7,5 che l'acqua purtroppo è molto molto alta in bicarbonati infatti me lo segna con un pallino rosso beer smith purtroppo il difetto della nostra acqua è principalmente quello per il resto sono valori che vanno abbastanza bene e una volta che abbiamo comunque il nostro profilo di acqua come lo utilizziamo allora se andiamo sul prendiamo una ricetta qualunque ad esempio questa dry stout ecco nella ricetta della nostra stout normalmente possiamo se non ci interessa il discorso dell'acqua possiamo farci la nostra ricetta solo con i malti lupo lo lievito e così però se se noi andiamo ad aggiungere anche l'acqua allora intanto quante ne dobbiamo mettere nei volumi mi dice che ho bisogno di 21,73 litri d'acqua quindi se io torno su design add water e vado a prendere il mio acqua di rombinetto di piacenza e metto 21,73 litri d'acqua ok quindi ho aggiunto il mio ingrediente ora se vado nella scheda del mesh abbiamo qua il ph stimato il programma praticamente in base al volume di acqua il tipo di acqua alla quantità e al tipo di grani di malti che usiamo sappiamo che i malti scuri sono un po più acidi rispetto a quelli chiari mi stima un ph di 605 e me lo segna con un pallino rosso perché è un po troppo alto e qua di fianco mi dà anche il discorso della correzione qui dobbiamo inserire il valore misurato del ph effettivo durante la cotta inseriamo qua sotto il ph che invece vogliamo avere poi mettiamo l'acido che vogliamo utilizzare e lui ci dice quanto ne dobbiamo usare facciamo un esempio ora questo si può usare durante la cotta con il valore misurato però se noi qua andiamo inserire il valore stimato quindi questo 6,05 che è stato stimato possiamo già calcolare una stima anche di quanto acido lattico dovremmo mettere supponendo che il valore sia esatto come target io di solito punto a 5,4 più che 5,2 come acido qui si può scegliere mettiamo il nostro acido lattico andrebbe messa anche la percentuale di concentrazione dell'acido lì bisogna vedere se è indicata sulla confezione dell'acido lattico e qua mi dice che devo mettere praticamente 9 ml di acido lattico qui non c'è il discorso dello spargo perché io ho la ricetta impostata per il beer e quindi è un valore che con cui mi ritrovo perché appunto con le stout di solito sono bere più scure vi ho detto di solito ne devo mettere un 10 ml per le bere chiare per le stout 8 9 di solito è un valore che che è coerente anche con la mia esperienza ecco quindi è abbastanza affidabile anche queste queste stime che che fa beer smith ok quindi mi fermo qui non voglio fare un video troppo lungo vi volevo solo lasciare queste queste indicazioni che possono che possono essere utili fatemi sapere ovviamente come sempre cosa ne pensate lasciatemi un commento se qualcosa non è chiaro chiedete pure cercherò di rispondervi vi do appuntamento al prossimo video a proposito iscrivetevi al canale per non perdere le prossime uscite non dimenticate neanche di cliccare sulla campanella che c'è vicino al tasto di iscrizione qua sotto per ricevere le notifiche quando verrà pubblicato un nuovo video io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima